si trova male ci ha fatto male con la stregaccia brutta ohhh oddio oddio papà guarda là oddio ma c'è ma c'è ma non c'è ma non c'è ma non c'è non c'è ma non c'è ma non c'è è Paolo, ma è Paolo, pure agli amori Paolo, è Paolo, Paolo, Paolo palo, palo che sei proprio innamorato, palo palo, 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 palo perché se lo dico e chissi faccia è palo palo, palo, palo paliaci palo Loria palia palo è Paolo, è vero è Stanno Paolo è Stanno Paolo oh va ma sai che tu vede non ti sforzi tu è lui vero è lui vero è lui è lui ma non sta non è non sta staglia 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 Rai, ti posso andare a baghear? Perché? Rai, ti posso andare a baghear? Si! Tu gioi bene a mamma. Quando gioi bene, e dà un badeco. Dà un badeco. Rai, dai, bato. Rai, dai, bato. La fufu. Ecco qua. Che hai fatto, Rai? La fufu? Si. Namo? Namo la fufu. Namo? Rai, Namo? Amamo, amamo. Amamo, amamo. Ti ho fatto, Rai, stai. Buu, buu. il canno non mangia, il canno non mangia, il ginetti sarà ben buono, ferma che non mangia non mi incendenti di prendere la bomba bene? ok, non si aspetta la bomba bene, non prendere la bomba bene, appunto per l'inizio mi fanno vedere la bomba, non prendere la bomba, non prendere la bomba in mano E' più bello! E' un po' questo non lo dovrebbe rompere. Chi ha dato l'ordine di portarlo giù? Perché non lo voleva fare dentro. E' perché sopra non lo potrà vedere la parte? Ma la parte l'hai chiusa?